Stop all'insediamento di nuovi impianti industriali e produttivi che possano causare ulteriore inquinamento nella zona industriale di Modugno. Lo ha disposto con una ordinanza Nicola Magrone, sindaco del Comune alle Porte di Bari, nel cui territorio ricade ben il 70% dell'area industriale del Consorzio Asi, estesa per un totale di 1.900 etteri. Il provvedimento si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Modugno e frutto di preoccupazione e precauzione rispetto a potenziali minacce per la salute dei cittadini e deriva dall'assenza di dati certi sulla qualità dell'area nonostante i controlli previsti anche dalle prescrizioni ministeriali di autorizzazione ambientale integrata emanate qualche anno fa. L'ordinanza del sindaco di Modugno in sostanza deriva dall'aver accertato che risultano carenti i controlli sulla qualità dell'area, che invece dovrebbero prevedere il monitoraggio costante soprattutto per PM10 e PM2.5. Modugno, sottolinea Magrone nella sua ordinanza, è una città già compromessa sotto l'aspetto della qualità dell'area, tanto da essere stata inserita in quanto area da risanare nella zona C del piano regionale della qualità dell'area, insieme ad altri 13 comuni, fra cui Taranto e Brindisi. Il sistema di rilevamento della qualità dell'area del comune di Modugno, gestito dall'ARPA Puglia, a giudizio del sindaco Magrone, ex procuratore della Repubblica, verserebbe in condizioni tali da non essere in grado di fornire dati né attendibili né certi, sottraendo di fatto ogni possibilità di tenere sotto controllo l'inquinamento sul territorio.